I colpi di pistola che hanno raggiunto Walter Albi e Luca Cavallito in un bar della strada Parco di Pescara lo scorso 1 agosto sarebbero stati esplosi dalla pistola rubata a una guardia giurata durante la rapina messa a segno lo scorso 11 luglio al centro agroalimentare di Villanova di Cepagatti. Per l'agguato al bar del Parco che ha portato alla morte dell'architetto 66enne Walter Albi e al gravissimo ferimento dell'ex calciatore 49enne Luca Cavallito ridotto in fin di vita. Dopo tre mesi le indagini dunque potrebbero essere vicine a una svolta come rivela il quotidiano il centro che parla di tre indagati e un movente un affare da 400 mila euro. Nell'articolo firmato da Maurizio Cirillo si legge che gli indagati sarebbero tre pescaresi esponenti della malavita locale già noti alle forze dell'ordine che il procuratore aggiunto a Narita Mantini e il sostituto Andrea Di Giovanni titolari del fascicolo che vede la supervisione del procuratore Giuseppe Bellelli da qualche tempo hanno iscritto nel registro degli indagati con un'ipotesi di reato che è quella di omicidio e tentato omicidio. A fare i nomi dei tre indagati è l'Ansa. Si tratterebbe di Fabio Iervese, 43 anni, Renato Mancini, 49 e Mimmo Nobile. Iervese e Mancini erano stati arrestati dai carabinieri lo scorso 21 settembre per la rapina al centro agroalimentare di Cepagatti finita con un bottino da 30 mila euro e il ferimento di una guardia giurata a cui i malviventi sottrassero la pistola in dotazione, usata poi il 1 agosto per la sparatoria che uccise Albi e ferì gravemente Cavallito. Per la rapina di Cepagatti anche Nobile risulterebbe indagato. La pista del giustiziere venuto da fuori regione perderebbe quindi corpo per lasciare spazio a indagini incrociate concentrate nel mondo malavitoso locale. Albi e Cavallito quel tardo pomeriggio del 1 agosto si erano dati appuntamento in un bar lungo la strada Parco e avevano effettuato un'ordinazione per più persone, forse le stesse, che avevano presumibilmente organizzato l'appuntamento trappola finito nel sangue tra l'incredulità e il terrore dei clienti del bar e delle persone che si trovavano nei dintorni. Secondo quanto riferisce Cirillo sulle pagine del centro, le indagini svolte dagli agenti della squadra mobile al comando di Gianluca di Frischia avrebbero portato prima l'identificazione di uno dei tre indagati e poi degli altri due uomini vicini al primo sospettato, anche grazie alle dichiarazioni dello stesso Cavallito, salvato dai sanitari dopo diversi interventi chirurgici e infine risvegliatosi dal coma farmacologico. L'incrocio di indagini con l'inchiesta parallela per la rapina di Cepagatti, intrecciata all'agguato della strada Parco di Pescara, avrebbe portato così all'individuazione di tre indagati, ma per ora resta ancora coperto da un estremo riservo il possibile movente dell'omicidio di Albi e del tentato omicidio di Cavallito. L'ipotesi più accreditata resta la vendetta per un affare da 400 mila euro in cui Albi e Cavallito potrebbero aver pestato i piedi a qualcuno.